Il primo allenamento per Marcello Trotta che è stato ufficializzato con un contratto biennale. L'attaccante di Santa Maria Capovetere non prenderà parte però alla trasferta di Domenica Pescara in quanto dovrà scontare un turno di squalifica. A guidare l'attacco dei Lupi nel 3-4-3, disegnato da Roberto Taurino, ci sarà Murano con Canutè e Di Gaudi Alati, rispettivamente a destra e sinistra, a completare l'undici, Marcone in porta, Ilianec centro-destra, Aia centrale e Zanandrea centro-sinistra in difesa. In mediana Ricciardi e Tito sulle corsie esterne, con quest'ultimo favorito su Mikoski. E Franca è dall'olio al centro, l'ex Palermo è in vantaggio su Casarini. Un battesimo di fuoco per Roberto Taurino e i suoi ragazzi che all'Adriatico sfideranno subito una big del torneo, un match che farà vedere di che pasta è fatto il nuovo Avellino. Una sfida storicamente difficile con i bianco-verdi che cercano la loro quarta vittoria in terra abruzzese, un successo che manca dalla stagione 2005-2006, quando grazie alle reti di Danilo Viciuse e Budiaschi si imposero per 2-0.